In questo video molto pratico e semplice vi parlerò di quello che è appunto questo spazio tra i denti chiamato spesso finestra, molto spesso, si chiama in realtà in maniera corretta diastema dentale quindi in buona sostanza non è altro che proprio come si può vedere da questa foto ma anche da quest'altra immagine non è altro che uno spazio presente nell'arcata superiore tra gli incisivi e i canini oppure anche tra i canini e le volte gli incisivi centrali di solito nei denti superiori è più frequente riscontrarlo e osservarlo più raramente invece nei denti dell'arcata inferiore e possono essere questi ultimi diastemi singoli cioè ce ne può essere solo uno fra i due incisivi centrali per esempio oppure moltipli cioè essere presenti su più denti su tutta un'arcata dentale e quindi avere questi spazi moltipli tra un dente e l'altro quindi non si parlerà di diastema isolato bensì di diastema diffuso chiaramente questo diastema molto spesso si pone come un problema estetico per il paziente molto spesso il paziente va dal dentista perché appunto vuole correggere questo diastema vuole chiudere questo spazio tra i denti dipende chiaramente dalla causa che lo ha determinato perché in base alla causa che lo ha determinato si potrà capire la difficoltà nel chiudere lo spazio di solito comunque sia la chiusura del diastema con un trattamento ortodontico risulta essere molto semplice ma prima bisogna fare un'attenta visita per capire qual è stato il motivo che ha determinato la comparsa del diastema le due cause più importanti che comportano la formazione dei diastemi che vengono anche chiamati diastemi dei primati perché diastemi dei primati? perché hanno un significato antropologico cioè erano presenti soprattutto nelle scimmie quali sono le due cause più frequenti? un primo motivo è legato praticamente al frenulo il frenulo diciamo parte dalla superficie interna del labbro ed è una piega praticamente che è presente ce l'abbiamo tutti quanti noi ma in alcuni individui può essere un pochettino più marcato questo frenulo si dice infatti che è ipertrofico cioè aumentato di volume più nello specifico il fatto che questo frenulo sia aumentato di volume soprattutto nei bambini va rimosso molto spesso va tagliato proprio per questo motivo perché può comportare diastemi dentali, recessioni gengivali eccetera quindi una prima causa di questo spazio tra i denti è questo frenulo molto marcato che non permette praticamente ai due incisivi di avvicinarsi tra di loro e quindi in questo caso ovviamente comporterà un diastema singolo la seconda causa ovviamente che può comportare la comparsa di questo diastema, di questa finestra tra i denti sono delle arcate molto grandi in presenza di denti molto piccoli in questo caso infatti non si avrà il diastema singolo ma si avranno appunto quelli che vi ho detto all'inizio che sono i diastemi multipli ovviamente in base a quale di queste due cause comporta il diastema il trattamento sarà leggermente diverso però in entrambi i casi comunque sia possibile risolvere il problema se però la causa è un frenulo troppo marcato chiudere ortodonticamente i denti comporterà la recidiva cioè i denti appena tolto l'apparecchio torneranno a riaprirsi perché ci sarà sempre questo frenulo quindi nel caso sia il frenulo ovviamente andrà rimosso prima chirurgicamente se avete delle domande potete lasciarle qui nei commenti iscrivetevi al canale e lasciate un like ci vediamo comunque sia al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti